ciao a tutti e benvenuti nel tutorial di oggi andremo insieme a vedere come realizzare questo meraviglioso motivo ai ferri è un motivo trafolato ad onde facilissimo da fare e che ci permette andare riprodurre una variante del motivo pavone ma davvero facilissimo da creare questo è un motivo che da entrambi i lati si presenta nello stesso identico modo perciò lo possiamo andare applicare veramente per tantissimi progetti per dei cardigan per delle ponci per le sciarpe per dei vestitini delle gonne copricostumi diciamo che c'è una possibilità di applicazione di questo motivo tantissimo qui ad esempio lo stiamo utilizzando per il nostro prossimo progetto per un progetto multifunzionale che a breve vedrete comunque tornando al nostro motivo il nostro motivo è un multiplo di 17 maglie e di quattro ferri ma non vi preoccupate perché tre di quattro ferri si lavorano nello stesso modo quindi unico ferro in cui andremo fare lavorazione particolare è il primo per il nostro campioncino andiamo avviare 36 mali di cui 34 per il motivo e due mali di vivagno per l'avvio noi utilizziamo avvio alla nordica il tutorial dell'avvio alla nordica lo trovate sempre nella descrizione del video oppure qui sopra nelle video indicati noi abbiamo messo anche un marco punto in mezzo così dividiamo i nostri due motivi perché andremo a vedere due motivi iniziamo con la nostra lavorazione e con il nostro primo ferro del motivo la maglia di vivagno la spostiamo le maglie le prime sei mali e li andiamo a lavorare in modo tale da diminuire con inclinazione verso destra e per riuscirlo fare dobbiamo entrare in questo modo dentro a due asole da due mali e ricavarne un'unica maglia una coppia l'abbiamo diminuito la seconda coppia facciamo nello stesso modo e la terza ultima così da sei maglie abbiamo ricavato tre maglie con l'inclinazione verso destra ora le maglie che sono in mezzo li andiamo lavorare ma facciamo dei aumenti quindi un aumento con il progettato una maglia a diritto secondo aumento una maglia a diritto terzo aumento una maglia a diritto quarto aumento una maglia a diritto quinto aumento una maglia a diritto sesto aumento e ci fermiamo qui con aumenti abbiamo fatto sei aumenti ora le ultime maglie del nostro motivo li andiamo lavorare diminuendo ma stavolta con inclinazione verso sinistra quindi la prima maglia la spostiamo la seconda lavoriamo a diritto e poi subito dopo andiamo a cavalcare la maglia appena lavorato con la maglia spostata prima male si sposta secondo si lavora a diritto e poi la seconda va cavalcata con la prima e così facciamo per le nostre sei maglie perciò noi facendo così andiamo le prime sei mali e diminuire in mezzo andiamo fare dei aumenti grazie ai gettati e ultime sei mali li andiamo diminuire con inclinazione verso sinistra e questa è la nostra lavorazione e questo è tutto il difficile del motivo possiamo dire così perché successivi feri sono da andare a lavorare a diritto comunque andiamo concludendo il nostro motivo ferro prima sei mali li andiamo diminuire con inclinazione verso destra quindi entriamo da davanti in due asole ricaviamo una le mali che sono in mezzo le andiamo lavorare a diritto e creiamo anche dei nostri aumenti con dei gettati questo ci permette appunto dare anche la forma al motivo allargare le mali e anche recuperare le mali che andiamo a diminuire all'inizio e al fine del ferro e ci ricordiamo che le diminuzioni si distinguono tra di loro perché all'inizio facciamo inclinazione verso destra e al fine del motivo li facciamo con inclinazione verso sinistra ed ecco qui anche la nostra male di ribagno la lavoriamo a diritto e questo il nostro primo ferro il ferro principale ora il nostro secondo ferro del motivo noi dobbiamo andare lavorare tutto a diritto perché noi dobbiamo andare applicare il motivo legaccio perché tra un traffolato e l'altro andremo applicare tre ferri lavorati a diritto per riprodurre il legaccio quindi il secondo ferro a diritto i nostri aumenti li andiamo lavorare a diritto normale in modo tale da mettere in evidenza il nostro forelino anche il terzo ferro tutto a diritto la maglia di vivagno la spostiamo successive maglie li lavoriamo a diritto normale anche il quarto ferro lo facciamo a diritto il numero dei ferri che lavorate a diritto ovviamente può variare secondo le vostre preferenze noi andiamo mantenere con questo stacco di tre ferri vedete voi come preferite di più l'effetto finale ma con tre ferri avete questo effetto che abbiamo già pronto sui nostri campioncini e quello anche che andremo utilizzare per il nostro successivo progetto ed ecco qui abbiamo visto come realizzare il nostro motivo abbiamo visto il primo blocco ora non dobbiamo fare altro che andare ripetere la lavorazione di questi quattro ferri per tutto il nostro progetto quindi andremo adesso a fare il ferro numero 5 lavorato nello stesso identico modo come il ferro numero 1 cioè andremo a fare il mix tra diminuzioni e aumenti per appunto recreare questo meraviglioso effetto all'onda trafolato a legaccio speriamo che questo motivo vi è piaciuto che siamo riusciti a spiegare in modo chiaro tutti i passaggi se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivetevi per non perdere tantissime altre novità in arrivo in più non dimenticate di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche quando escono i nuovi tutorial vi aspettiamo anche su facebook dove abbiamo sia il gruppo che la pagina grazie a tutti e al prossimo video tutorial